Ci abbiamo lavorato molto affinché si producessero delle alleanze larghe, ma soprattutto alleanze antisovraniste, cioè che in qualche modo riuscissero a combattere la destra nel solco dell'alleanza di governo. Io ci ho lavorato particolarmente, sono contento che sui sei comuni che a livello nazionale vedono alleati il PD e il Movimento 5 Stelle, ben tre siano nella provincia di Napoli. Ora vediamo come andranno i risultati, siamo molto ottimisti anche perché abbiamo reso delle partite che erano molto probabilmente perse, adesso estremamente competitive e questo mi sembra già un risultato politico molto importante. Lo schema su cui si può lavorare anche in vista delle prossime elezioni amministrative, posto che in questo momento però la priorità è chiaramente quella di vincere le elezioni regionali e di vincere i comuni dove andiamo al voto.